E' il dono che ci rende liberi, perché ci rende presenti all'altro. E senza dono, senza gratuità, non c'è futuro. Il dono è una cosa molto seria, così seria che quando l'Occidente ha dovuto scegliere un simbolo per il dono, ha scelto un crocifisso. Non è niente di romantico, niente di sentimentale, è il fondamento del patto sociale. Dono, comunità, futuro. Questo è il tema centrale dell'edizione 2024 del Festival dei Cammini di Francesco, presentato in anteprima al Sacro Convento di Assisi. Ci ispiriamo sempre al Santo di Assisi, perché ricorrono gli 800 anni del dono delle stimmate, ma anche c'è un'altra importante ricorrenza più legata al nostro territorio alto tiberino, che è quella del dono del Saio a Montauto. Tra l'altro, di pochi giorni fa, il ritorno della reliquia del Saio di San Francesco, in pianta stabile ad Anghiari, ed è stato collocato nella Chiesa della Croce. Il Festival si propone di esplorare il ruolo del dono nelle comunità del futuro e di aprire un dibattito su questa tematica attraverso gli eventi organizzati nelle 13 tabbe previste. Le relazioni vengono, da questo punto di vista, arricchite dalla cifra della donazione, che lega senza stabilire un vincolo, diciamo così, stretto e obbligatorio, ma nello stesso tempo rappresenta un legame virtuoso, un legame che rilancia il valore della relazione. Per cui riflettere a partire da qui, e cioè da Assisi, sul tema del dono, sulla cifra del dono che è all'interno della prospettiva francescana, è sicuramente un valore in più, un valore aggiunto. L'ottava edizione della manifestazione amplia le iniziative anche al di fuori dei tradizionali confini dell'Alta Valle del Tevere Toscana e Umbra. Si stenderà infatti ad Assisi e Firenze con due speciali appuntamenti primaverili. Toccheremo anche Firenze quest'anno all'Opera di Santa Croce, che è diventato il punto di partenza in Toscana del Cammino di Francesco. Per poi il festival prendere avvio realmente il 30 di maggio, con il primo ciclo di appuntamenti, che saranno il 30, il 31, l'1 e il 2 giugno, e poi il secondo blocco di eventi, che partirà dal 6 giugno al 9 giugno.